Perchè è una grande società, una società che ha più di cento anni di storia, è una grande città. Squadra competitiva? Certo, certo, una bella squadra, forte. C'è bene il cittadino Napolitano a Provence, questo è tra due, dove è questa l'area. Magari io lo faccio insegnare da Candreva o da qui. Hai parlato con Antonio? Asr Music Poi scopri che chi t'ha citofonato, è proprio lui quel matto dello dito. T'aspetta giù coi mano quel pigiama, buttando lì una frase gi' spadana. Gli edo cade venì fino in campagna, perché se fa così ma qua non magna. Immobile per storie e tradizioni, ha scelto Lazio e mo' vuole imparare. Il romanesco da Candreva e dire che da Florenzi non ne vuol sapere. Poi manca il tempo de fattu lezioni, che Antonio il romanista già sta fuori. Eppure parli sempre di chi è nato calciatore invece te, lo sai un discorso antipatico, non c'entra con la potistica. Parla di quello che vuoi, sei in disco rotto ormai, racconta quello che vuoi. Ma non parlamo de storie che manco sai, se eri distratto io te la ridico. La storia dava a caro il sorlo dito, non è una storia fiera né pulita. Anche se se te la sei raccontata, perché non c'è un laziese che ti sdegna. Il lecidi come la ruba insegna.